Se loro si ammalassero, il sito dovrebbe chiudere, seduta stante, ancora una volta. E qual è allora l'urgenza vera? Tappare la bocca a pochi lavoratori sottopagati e sfruttati o investire risorse nel personale e rompere finalmente i legami con le cooperative? Il Governo ha scelto la prima via e ora fa sorridere la promessa di assunzione di 500 nuove figure sparse in tutta Italia. Saranno archeologi, architetti, restauratori e mille altre figure e saranno ripartiti su tutto il territorio italiano. Ma non saranno comunque addetti alla vigilanza. Dunque, la verità è che da domani non cambierà assolutamente nulla. O meglio, da domani avremo solo lavoratori meno liberi, meno tutelati e meno protetti. Per questi motivi il MoVimento 5 Stelle voterà contro questo provvedimento. Grazie. Grazie. Scritta a parlare la deputata Titti Di Salvo. Prego, una facoltà. Grazie, Presidente. Vede, colleghi e colleghe, sottosegretario, a me è molto colpito che in questa discussione, fin da stamattina, se ci si metteva a ascoltarla con attenzione, come ho fatto io e come hanno fatto altri, ci sarebbe resi conto che si parlava di un altro decreto. C'è la cosa più sorprendente che è stato commentato per ore e ore in quest'Aula un decreto che non esiste. Perché i commenti sono stati relativi a contenuti che questo decreto non ha e non sono stati commentati i due unici articoli di questo decreto. In molti interventi, e vorrei ricordare anche quello dell'onorevole Brunetta, mi sarei aspettata quando ho visto che si iscriveva a parlare, che avesse iniziato il suo intervento, per esempio, chiedendo scusa per la vignetta sessista contro la ministra Boschi. Invece non è successo, si è invece, diciamo, espresso in altre argomentazioni legittime, ma quantomeno, a parte il fatto che parlavano di un altro decreto, pensavo che fossero utili quantomeno a chiedere scusa. Allora, il decreto parla di due argomenti, contiene due articoli. Nel primo articolo si inseriscono nei livelli essenziali di prestazioni i beni culturali, il patrimonio culturale, la fruizione del patrimonio culturale. Ora, è una affermazione, è una scelta di rilevanza grandissima, forse non per tutti. Io, su rispetto a questo articolo, mi sarei aspettato commenti da una forza politica, per esempio, che ha presentato una proposta di legge per inserire il bello nella Costituzione. Mi sarei aspettato commenti, ma invece mi sono trovata, ci siamo trovati di fronte a un dignitoso riservo, a imbarazzo, al silenzio, oppure a altri argomenti. Per esempio, si è detto, l'ha detto il Movimento 5 Stelle in più argomenti, più volte, che la fruizione del patrimonio culturale non ha rango costituzionale. Vedete, forse non è obbligatorio che tutti lo sappiano, che tutti lo ricordino, ma il Partito Democratico nel 2009, il 24 marzo, e per molti giorni prima e dopo, chiese, rivendicò che esattamente questo, che venisse inserito nella Costituzione e nei livelli essenziali di prestazioni, la cultura. Per noi sono solo sei anni dopo. E disse di no, onorevole Simonetti, il ministro Calderoli disse di no a questa rivendicazione. Per il Partito Democratico sono passati solo sei anni, da quando, in quel clima cupo della cultura che non dava da mangiare, si disse di no a una scelta di straordinaria rilevanza. E non è la stessa cosa di inserire i beni culturali tra i servizi pubblici essenziali. Perché scrivere livelli essenziali di prestazione vuol dire che per assicurare quei livelli dovranno essere messe risorse finanziarie e destinato a delle persone. Gli enti locali avranno questo vincolo da qui in avanti. E allora, nel 2009 e oggi, il Partito Democratico perché lo rivendica? Perché la cultura è la trama del progresso. Perché l'ignoranza è la matrice di moltissimi conflitti della violenza. La radice della violenza sta nell'ignoranza. La scelta di investire in cultura ha una radice simbolica nella Costituzione, una conseguenza concreta nelle scelte. È la nostra scelta. Poi c'è un secondo articolo. Il secondo articolo dice che, siccome i beni culturali sono servizi pubblici essenziali, si applica la legge 146 del 90. Si applica una legge dello Stato, che già si applicava ad altri servizi pubblici essenziali. Ascoltare la discussione che qui si è svolta, e me ne rimarico veramente, chi ci ascoltava ha potuto dire, ha potuto sentire, che qui si è detto che con questo decreto si toglie il diritto di sciopero. Si puniscono le lavoratrici e i lavoratori. Veramente si è sempre detto i lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori. Si fa una cosa che non esiste, che non è scritta in questo decreto, che ci si augurava forse, ma non è così. A meno che qualcuno voglia dire che da qui in avanti i lavoratori che lavorano in quei settori non potranno più scioperare, non potranno più indire un'assemblea, oppure dovranno regolare il loro diritto sacrosanto e costituzionalmente definito con i diritti delle altre persone, dei cittadini, così come avviene nella sanità, così come avviene nei trasporti, così come avviene nella pubblica istruzione. Ma allora viene un dubbio, e viene un legittimo dubbio. Io ho sentito dire che applicare la legge 146 è vendicarsi dei lavoratori. Ma allora il punto qual è? Eliminare, abolire la legge 146. Cioè il tema è che il conflitto non deve essere regolato. Cioè è una forza che dice che vuole governare questo Paese. I cittadini cosa si possono aspettare da questa forza? L'abolizione di quella legge? Nessuna regolazione del conflitto nei trasporti, nelle scuole, nella sanità? Questo ci possiamo aspettare da chi da Imola si candida a governare il Paese? Di questo stiamo parlando? No, parliamo invece di un'altra cosa, della scelta di inserire quei beni, quelle istituzioni, quelle attività, non solo nei livelli essenziali di prestazione, ma anche nei servizi pubblici essenziali e quindi di regolare i diritti delle persone con i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Certo, questo è avvenuto in un contesto, ma come si fa a dire che la fruizione di quei beni per il Paese, che è il primo nella graduatoria dell'UNESCO, per i siti archeologici, non si ponga la responsabilità, il problema della fruizione di quei beni? Una domanda non ho sentito, a quella domanda ha risposto la maggioranza del Partito Democratico, perché la domanda non erano quelle che qui sono state fatte un po' così. No, la domanda era ma basta l'applicazione della 146 per fruire dei beni? Basta questo? Non basta. E di fatti la legge di stabilità, dopo anni, dieci anni, dodici anni di tagli, ha scelto di invertire sulla politica di investimento nella cultura, di invertire la direzione di marcia, ma in modo netto. Vedete, nel 2012 la Costituente per la Cultura nasce in Italia e è fatta attraverso un manifesto e un appello di tanti intellettuali di tutto il mondo della cultura. Diceva basta dieci anni di taglio, chiedeva le cose che oggi sono nella legge di stabilità di questo governo, chiedeva assunzioni, e c'è un concorso straordinario bandito per 500 persone, per giovani architetti, storici dell'arte, bibliotecari, chiedeva che fosse strutturale la tutela del patrimonio e c'è la conferma strutturale dell'Arbonus, chiedeva il tax credit e gli investimenti nella produzione cinematografica e questo c'è nella legge di stabilità. chiedeva, cioè, un'inversione straordinaria perché la cultura fosse la visione lungimirante del Paese, la visione lungimirante del Paese. Come fare a non capire che quando si investe un euro in cultura e torna a 1,67 al PIL è questa la via maestra per uscire dalla crisi? Questo, tutto questo, l'ha fatto la maggioranza e l'ha fatto il Partito Democratico che ha anche fatto un lavoro in commissione importante perché il decreto arrivasse in aula così come arriva oggi, così come non avete voluto vedere che arrivasse, perché all'opposizione di questo Governo non interessa il Paese, interessa mostrarsi al Paese in un altro modo, non interessa vedere quel che di buono si fa, interessa invece, anzi, oscurare quel che di buono si fa, oscurarlo. Io devo dire che da questo punto di vista, rivendico con orgoglio al Partito Democratico invece di aver oggi portato in aula e votato, e dichiaro il voto a favore del mio partito, un decreto che, uno, dopo sei anni di rivendicazione in questo senso, inserisce nella Costituzione la cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale, due, considera quei beni un servizio pubblico essenziale, tre, fa seguire a queste affermazioni delle scelte concrete di politica economica e politica culturale. Ed è per questo che confermo il voto a favore del Partito Democratico. Grazie. Onorevole Di Salvo ha chiesto di intervenire a titolo personale la deputata Gregori. Prego. Grazie, Presidente. Intervengo ovviamente per esprimere il mio voto, e quello del collega Fassina, contrario a questo decreto. Voglio ringraziare la spiegazione che la collega Di Salvo adesso ha dato sulla legge che ci apprestiamo a votare, ma vorrei sottolineare che qui dentro nessuno ha parlato di contenuti diversi da quelli della legge, perché nella relazione si parla esplicitamente del fatto che questo decreto deriva dalle manifestazioni sindacali e scioperi che hanno impedito l'apertura al pubblico e l'accesso ai luoghi della cultura ed appartenenza pubblica, specialmente siti di particolare interesse culturale e attività turistica. Quindi è anche vero, dall'altra parte, che si stanno comprimendo i diritti dei lavoratori. Se la verità la dobbiamo dire, allora diciamola tutta e mettiamo da parte...